Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi qualche nuova creazione che ho realizzato in questo periodo. Si tratterà di orecchini e di bracciali, perché le collane già ve le ho mostrate in un precedente video, del quale vi lascerò il link giù nell'info box o, se riesco, qualche scheda. I primi orecchini che voglio mostrarvi sono questi qui. Sono pendenti e li ho realizzati in una minuteria color oro. Cercherò di farveli vedere meglio. Partendo dalla monachella che ho utilizzato. Questa qui, con questa carissima decorazione a forma di stella marina. È in argento 925, però ha una colorazione color oro. Ho utilizzato poi dei cipollotti neri sfaccettati di vetro, delle perle di fiume, e la parte principale di questi orecchini è questa bellissima pietra in pietra dura, in agata azzurra, ovvero in angelite. È la parte che cattura più l'occhio di questi orecchini, è appunto questa pietra dura, perché ho volutamente utilizzato degli elementi molto più piccoli rispetto a questa perla, proprio per darle importanza all'interno dell'orecchino. E devo dire che il risultato è venuto molto carino, mi piacciono tanto, soprattutto per l'utilizzo di queste monachelle, e per la colorazione davvero splendida di queste pietre d'agata. I prossimi orecchini che vi mostro sono semplici, ma molto carini e perfetti per l'estate, anche se sta per finire. Io devo ammettere che li ho utilizzati parecchio queste estate, soprattutto prima di mettere il gesso, quando potevo uscire, diciamo. Allora, li ho utilizzati semplicemente con tre elementi, la monachella in argento 925, colorata d'oro. Questa è davvero molto molto bella, perché, spero che riuscite a vedere, è decorata da questa splendida filigrana, quindi anche la monachella ha la sua importanza all'interno dell'orecchino. Ho utilizzato poi come elemento centrale, questo elemento in cristallo, color arancione. La parte esteriore è color dorata ed è in ottone. Poi, come parte centrale dell'orecchino, ho utilizzato questo elemento in resina, a forma di cavalluccio marino, color corallo, color arancione, un colore che si avvicina molto al colore dell'elemento centrale. Li trovo molto carini, perché sì, sono eleganti, ma sono anche, diciamo, facili da portare, anche un po' spiritosi, grazie a questo elemento in resina. Io li ho utilizzati sia di giorno, sia di sera, e devo dire che di sera, grazie a questo elemento molto brillante, fanno la loro figura. E quindi, devo dire che questa realizzazione, anche se è molto semplice, mi è piaciuta davvero tanto. Avrei voluto riproporre altri colori di questi, appunto, di questi orecchini, di questi accessori, con anche altre figure, quindi altre figure in resina che potevano richiamare sempre il mare o l'estate, ma purtroppo, non potendo uscire di casa, non ho potuto neanche acquistare nuovi elementi per i miei gioielli. Quindi, penso che proporrò altri elementi simili, altri accessori simili, l'anno prossimo. Un altro paio di orecchini per i quali ho utilizzato degli elementi in resina sono questi qui che vi sto facendo vedere, molto simili ai precedenti. Allora, ho utilizzato qui quattro tipologie di elementi diversi, ma diciamo che si somigliano molto agli orecchini che vi ho mostrato prima con il cavalluccio marino. Ora, la differenza sta nel fatto che qui ho utilizzato una monachella sempre in argento 925, decorata con una filigrana, ma in questo caso la monachella è a perno. Dopodiché ho utilizzato un altro elemento sempre in cristallo, in questo caso il colore è ambrato, non è un arancione acceso come era per i precedenti orecchini. ho utilizzato un altro elemento in resina, in questo caso un po' più piccolo ed è a forma di conchiglia. Alla fine ho voluto inserire anche questa perla, anzi questa pietra dura in agata colore arancione che riprende il colore dell'elemento in resina. Essendo un po' più piccolo, anzi parecchio più piccolo rispetto all'elemento a forma di cavalluccio marino, ho voluto inserire ancora un altro elemento per dare un po' più di lunghezza all'orecchino, visto che anche la monachella è a perno e quindi fa perdere un po' di lunghezza. Anche questa tipologia mi è piaciuta tanto, l'ho indossata diverse volte anche io e devo dire che la luminosità in questo caso è data sia dall'elemento in cristallo ma anche dalla pietra dura che appunto ha questa tonalità arancione molto accesa. pure di questa tipologia di orecchini con degli elementi in resina un po' più piccoli volevo proporre altri colori con altri soggetti ma ecco purtroppo non potendo rifornirmi ho utilizzato i materiali che già avevo a casa. Passiamo adesso ai miei orecchini preferiti che appunto ho indossato io e li ho realizzati per me. Li ho indossati quando ho partecipato ad una festa per una promessa di matrimonio avevo acquistato un abito lungo floreale da H&M e quindi ho voluto realizzare per me degli orecchini che appunto richiamassero quei colori. Il punto centrale diciamo di questi orecchini quello che anche dà una luminosità pazzesca è appunto questo elemento in Swarovski questo è un vero cristallo Swarovski con una colorazione ecco classica cristal è un castone più che un elemento e al suo retro ha appunto la monachella quindi questo è un castone a perno. Continuando come secondo elemento ho deciso di utilizzare questa pietra dura in agata blu molto scura e anche molto grande infatti come potete vedere dalle dimensioni anche della mia mano sono due elementi che si fanno riconoscere subito ho utilizzato questo blu appunto perché avevo bisogno di elementi color blu da abbinare al mio vestito l'orecchino termina con questa cascata di cipollotti color cristal in vetro delle micro pietre dure in agata azzurra queste sono pietre dure molto piccole e catene dorate che danno appunto movimento all'orecchino il movimento di un orecchino viene dato anche dalla monachella pendente che appunto oscilla attorno al lobo ma essendo qui una monachella a perno immobile non si muove quindi questi sono alcuni dei miei orecchini preferiti sulla falsa riga degli orecchini precedenti ho realizzato anche questi qua che sono molto più semplici e per questi orecchini ho utilizzato sempre una monachella a perno in questo caso ha la forma di un fiorellino una pietra in agata in questa colorazione molto accesa rosa e infine ho inserito dei semplici elementi in catena per dare un po' di movimento all'orecchino devo dire che anche se ecco non ci ho messo tantissimo a realizzare questi orecchini sono davvero semplici da realizzare devo dire che il risultato mi piace molto anche perché mi piace il contrasto tra questo colore di questa pietratura e la minuteria argentata mi piace molto e fa anche un bel effetto perché da lontano voi potrete riconoscere subito questa bella pietra accesa e vedere il movimento della catena sottostante finiti gli orecchini passiamo ai bracciali devo premettervi che sono tre tipologie di bracciali diversi ma piuttosto simili e sono davvero molto semplici non ho utilizzato filo metallico o filo in wire proprio perché purtroppo tutti i miei fili metallici mi sono finiti e devo fare un bel rifornimento appunto dal mio negozio di fiducia ho utilizzato per questi bracciali che vi mostro tra poco cipollotti pietre dure ed elementi di resina ho utilizzato poi soprattutto del filo elastico quindi questi sono bracciali con filo elastico non hanno neanche la chiusura diciamo sono lavorazioni molto di base proprio per principianti possiamo chiamarle così il primo bracciale che vi mostro più che altro l'ho pensato come un set di bracciali ed è composto da 4 mini braccialini che ho realizzato con diversi colori di cipollotti sfaccettati in vetro ai quali ho inserito poi dei charms pendenti in argentone ora questo l'ho pensato per queste tonalità di colore ma ovviamente si può realizzare in tantissime colorazioni e anche i charms possono essere scelti in base a vari fattori io in questo caso ho utilizzato una coccinella un delfino una nota musicale e una fogliolina per quanto riguarda i colori ho utilizzato il colore crystal l'azzurro baby il celeste e il bianco panna sono anche di diverse dimensioni perché questi qua questi cipollotti crystal sono un po' più piccoli rispetto agli altri ed ecco visto che io non potevo scendere di casa ho utilizzato i cipollotti che già avevo qui con me in casa i prossimi bracciali che vi mostro sono sempre realizzati con filo elastico però in questo caso ho utilizzato delle pietre dure e degli elementi in resina prima prima di farmi male avevo acquistato un filo di elementi in resina con queste faccine di questo Buddha molto sorridente ho fatto ho fatto già diverse cose e devo dire che mi sono piaciute tanto perché non lo so questa faccina qui mi ispira molta simpatia ho realizzato questi bracciali che appunto sono composti di pietre dure e questi elementi in resina in più hanno della minuteria dorata ho cercato di realizzare il maggior contrasto di colori possibili infatti per il Buddha con la faccina bianca color bianco ho utilizzato delle pietre d'agata nero per la faccina del Buddha color rosso ho utilizzato delle pietre in agata color bianco per il Buddha dalla faccina blu ho utilizzato queste pietre in quarzo rosa e per il Buddha dalla faccina celeste ho utilizzato queste pietre in corniola color rosso sfaccettato e mi piacciono tanto come già ve l'ho detto però il contrasto che mi piace di più cioè a me personalmente mi piace molto indossare questi due bracciali insieme adesso ve li mostro in questa maniera mi piace molto indossare il bracciale con le pietre d'agata nero e gli elementi in resina bianco e quello con le pietre d'agata bianco con l'elemento in resina rosso gli ultimi due bracciali che vi mostro sono molto simili a quelli precedenti anche loro sono composti da pietre dure ed elementi di resina in questo caso qui abbiamo delle pietre dure di agata color bianco e un elemento in resina che è una stella marina in questo caso abbiamo invece delle pietre dure molto più grandi di questa colorazione azzurra verde acqua con l'elemento cavalluccio marino in resina colora radicione che ho utilizzato anche per degli orecchini che vi ho mostrato prima questi sono proprio estivi li ho indossati anche io diverse volte e mi piace tanto abbinarli insieme anche di questi ho pubblicato una foto su instagram che vi è piaciuta parecchio di fatti io li indosso in questa maniera così e devo dire che fanno molto estate appunto c'è il cavalluccio marino la la stella marina e sono davvero molto carini deliziosi e sfiziosi da vedere soprattutto mi piace molto questo qui con il cavalluccio marino perché appunto c'è questo grande contrasto di colore tra l'arancione e il verde delle pietre per questo video è tutto qui ho finito spero che le creazioni di questo periodo anche se molto semplici vi siano piaciute fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti nell'info box vi lascio anche il link della mia pagina facebook e del mio profilo instagram dove ci possiamo tenere in contatto arriveranno a settembre ovviamente dei nuovi video creazioni e dei nuovi tutorial spero di realizzare più cose possibili con la tecnica wire che da un po' di tempo che non utilizzo appunto per mancanza di materiali spero quindi di fare una bella spesetta e poi di mostrarvi cosa ho acquistato il video si conclude vi saluto grazie per tutti gli auguri di punta coa rigione che mi avete fatto e ci vediamo al prossimo ciao ciao